Aaaaaah! Cos'era quel rumore? Cos'era quel rumore? Ehi, ma dove sono finiti tutti? Veronica e Federica Dove siete? Aspetta, aspetta Qualcuno sta cercando di farvi uno scherzo Ehi, sì, sì Sicuramente si stanno nascosti qua dietro Il divano, per forza E uscite fuori, androvate Ma aspetta, non ci stanno qua Non ci sono qui, ma... Penso che saranno dietro le misure No, come fanno a stare qua dietro, sono scemo Ho sentito un rumore Ho sentito un rumore Da qualche parte Ah, ho capito, sono sotto al tavolo No, non ci sono qua Aspetta un attimo, ma... Quali sono i nostri regali? Perfetto Ma là sotto, cosa diavolo c'è? Chi c'è là dietro? Ah, sono degli stivali quelli Ecco, dicevo io Ok, ok Quindi non c'è nulla di strano Perfetto Adesso possiamo andarcene Bene Ti ho trovato Perché vi eravate nascoste? Perché vogliamo aprire i regali I regali volete aprire? E dovete aspettare Perché i palli erano in salto Dovete aspettare per i veri di regali Allora dobbiamo aspettare che venga Babbo Natale Il latte e i biscotti ci sono Quindi cosa manca? Forza dobbiamo spegnere le luci Stiamo qua Lui non viene E quindi ci dobbiamo nascondere Ecco Per aspettare le luci Oh mamma Oh mamma Oh mamma Oh mamma Oh mamma Ma chi è che muove le dende? È il fantasma O è il vento? Vento Vento Pappo Natale Pappo Natale Pappo Natale Pappo Natale Pappo Natale Avete paura di Pappo Natale Ma come fate avere paura di Pappo Natale? Ehm Ah Ah Cos'era quel rumore? Cos'era quel rumore? E' Babbo Natale? E' Babbo Natale? E' di là? E' di là? Voglio vedere Voglio vedere Voglio vederlo pure io Perché chiudi la porta Federica? Voglio vedere se c'è Babbo Natale di là Ma non ci facciamo sentire Infatti sì Aspetta aspetta Sì Andiamo a vedere Vappo Natale Vappo Natale Senti di qua Oddio odio 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 Paura 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 Aspetta Ma non c'è niente qua vicino Non c'è nulla Mmm Molto molto sospetto Fate attenzione Perché il rumore proveniva da questa stanza Potrebbe I occhiali di Vappo Natale Oddio Ma questi qua sono i miei occhiali Non so gli manchi di Vappo Natale Aspetta Che c'è? Che hai visto? Che hai visto? Odio Lo slime Grande Cercate bene Beh PR dici dove si trova Babbo Natale Che c'è? Che hai visto? Che hai visto? Li ha messi prima Federica questi pentarelli qua vicino E non fai ritrovare Babbo Natale Perché poi ci dipinge tutto a base Che c'è? Che hai trovato? Che hai trovato? Che hai trovato? Che hai visto? Che bello Oh mamma mia C'è un cappello di Natale Cos'era quel rumore? Cos'era quel rumore? No no Mamma mia mamma mia No 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 Senza qualcosa Era vera Era vera dici? Si si era vera Aspetta aspetta Non lo so Aspetta Oh mamma mia Mamma mia Avevo visto una cosa a muoversi là Ed è la tenda Fortunatamente 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 Era la tenda Babbo Natale Malvagio Allora Vi dobbiamo fare la riunione natalizia Riunione natalizia Io la con tutto Ok prego vada Allora Quel rumore che abbiamo sentito Sarà Babbo Natale Sicuramente Babbo Natale Quindi dobbiamo fare un piano Ok ci serve un piano No ho un fondo Allora Allora te lo dico io Si? Cosa dobbiamo fare? Uno di noi deve restare in camera Uno di noi resta in camera? Chi è che resta in camera? Io da solo qua non ci resta Erika Ok Ok Allora Uno deve restare nel bagno Ok E l'altro è il tuo io Che guarda la stanza fiamocchetta Ok Ecco il tuo io Ok Ma secondo voi scusa E guarda dietro Se noi abbiamo trovato questo cappello qua Vuol dire che Babbo Natale è uscito dal balcone E quindi Babbo Natale potrebbe essere da tutte le parti Quindi io vedrò il balcone Tu vedrai il bagno Quindi se vedete qualcuno pelato Ma Babbo Natale è pelato? Si qua è pelato Veramente? Non c'è capelli sotto il cappello Chi vuole stare nel bagno? Io non No no Allora nel bagno ci vado io Ok Allora tu vai nel corridoio Vai nel corridoio Ma io non voglio andare Nel corridoio Nel corridoio Si Il corridoio Buio Ah No Ho paura Sta attenta Sta attenta Sta attenta Si se c'è tutto qua Ah 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 Ok Non c'è nulla Non c'è nulla Ho fatto paura così inutilmente come uno shock Vittoria Che c'è? Ma perché la luce Oh mamma Ma perché la luce da in fondo fa così? Perché la luce da in fondo fa così? Perché la luce da in fondo fa così? Oh Guarda Si accende e si spegne quella da in fondo Vado io a sentarlo No Sta attenta Sta attenta Sta attenta È la discoteca È la discoteca Non è la discoteca Vado a vedere io Aspetta Vado a vedere io Oh mamma Oh mamma Oh mamma Mi sa che sono Si sono fulminate tutte le lampadine No Non posso crederci No Il latte e biscotti sono scomparsi Il cuore Ma se vediamo quella porta si era chiusa da sola Quale porta? Questa Questa porta qua si è chiusa da sola? Oh C'è qualcuno di teo l'albero 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 Non lo vado a guardare qui Non ho capito che si chiudeva Ma che hai visto qua dentro? Eh Allora ma No I regali I regali I regali sono scomparsi No 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 Federica Federica chi è che ha rubato i regali? No Mi dispiace E allora non ci sarà nessun Natale Federica è arrabbiata Federica è arrabbiata Attenzione perché Federica è arrabbiata Federica ti senti bene? Ti senti tutto quanto bene? Perché ti fai rimbalzare questa palla? Come ti senti Federica? Eh? Vorresti distruggere tutto? No No Non tocca l'albero di Natale Allora Vittor Pemberi ci troviamo di fronte a un mistero Qualcuno Ha rubato Che c'è? Qualcuno ha rubato i regali di Natale Allora Secondo voi chi è stato a rubarli? Secondo voi chi è stato a rubarli? È Bill Santa Chi è Bill Santa? Babbo Natale cattivo Ecco perché abbiamo trovato il cappello allora È un Babbo Natale cattivo che ruba i regali Però non è Ah No 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 Che sto scherzando Che c'è? E cacca cacca E cacca cacca E cacca cacca Guarda la tenda quando si è alzata Ma c'è tantissimo vento Guarda Stiamo facendo yoga Si probabilmente si Andiamo a vedere Andiamo a vedere Che stai facendo? Yoga alla tenda Cos'è lo yoga Lo yoga di Natale stai facendo? Vediamo che è stato Il yoga di Natale si fa così Vediamo che è stato a fare quel rumore Allora Ma dov'è Vera? Vera non c'è qua vicino Vera Vera dove sei? Ah è la tenda che fa yoga Ah ecco Non sapevo che la tenda faccio solo yoga No Non premere questo Gli alieni Vengono gli alieni se lo premi Perfetto vengono gli alieni Ma aspetta un attimo Io ho visto una cosa strana C'è una cosa strana in questa camera Cos'è quella cosa la? Di chi è quella scarpa? Oh mamma Aspettate un momento Cos'è quella scarpa alla terra? Chi l'ha messa? Che è stato? Cos'è quella scarpa alla terra? Chi è stato? Di chi è quella scarpa? Ah Ah No Federica è sferuta Federica No No Sei viva Sei viva Perché poi viene Babbo Natale Ma Babbo Natale è già venuto E quindi questo qua chi è? Questa scarpa è molto sospetta È San Francisco È San Francisco Allora Allora VittoFamily Dobbiamo capire che collegamento Secondo voi che collegamento c'è con questa scarpa e quel cappello Cioè è per forza Aspetta secondo me il mio vasco Il piede è la besta No aspetta secondo me è stato qualcuno Ha questa scarpa di schifo è puzzolente Allora sicuramente è un maschio È un maschio Perché ha il cappello da Babbo Natale e questa scarpa Però non è il vero Babbo Natale mi sa chiunque sia È un impostore No aspetta Federica Mi è venuta un'idea Abbiamo le videocamere Possiamo vedere le videocamere Sì Sì vediamo dalle videocamere Chi è stato? Allora 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 Allora